Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6. Iniziamo la nostra giornata con la lettura dei quotidiani partendo dalle prime pagine regionali. Sul centro edizione di Pescara il titolo di apertura, eccolo qui, bancarotta dell'ACA, 4 le condanne, oltre 4 anni all'ex presidente di Cristoforo e risarcimento all'azienda. Andiamo a vedere adesso il taglio alto autostrada A24, sicurezza delle acque, il traforo Gran Sasso chiude dal 19 di maggio. Poi ancora reddito di cittadinanza, delusione su Facebook, Navigator intanto si parte. Poche colonnine, mobilità elettrica, l'Abruzzo e maglia nera in Italia. Andiamo avanti nello spazio delle cronache. Coppia pestata in strada, due anni a una ragazza, Megan Giannini, la donna del branco che pestò e rapinò una coppia di finanziatini in centro, ha patteggiato ieri due anni ed è tornata in libertà. Poi ancora martedì l'inaugurazione apre il distretto sanitario di Montesilvano. Sulla circonvallazione, rischio incidenti, arriva il telelaser a Francavilla. Poi ancora Rigopiano, la rabbia per gli SOS ignorati, familiari delle vittime dopo la lettura delle intercettazioni, dicono, è un altro colpo al cuore. A centro pagina, la fotografia di Monsignor Valentinetti, Pescara in preda a una deriva razziale, questa l'intervista all'Arcivescovo anche in vista delle festività pasquali. Poi ancora da leggere, Festival del Cinema, a Cannes l'Italia punta sul traditore di Bellocchio, che è il film punta di diamante del nostro cinema per questo appuntamento di Cannes. Unico regista italiano in lizza per la palma d'oro. Poi andiamo avanti con il quotidiano Il Centro, passiamo sull'edizione teatina. Titolo di apertura, caccia al baby rapinatore armato, ha tentato il colpo a Chieti in una tabaccheria, ma il titolare lo ha messo in fuga. Taglio alto identico alla edizione precedente, quindi non ci torneremo. Andiamo adesso a centro pagina, restando a Chieti, i giovani e non solo, ai colloqui per l'assunzione, selezioni a McDonald's, 200 in fila per il posto di lavoro. Nello spazio dedicato alle cronache, a Vasto, difesa del Tribunale, si mobilitano i commercialisti. L'appello costa poco tenerlo in vita, in campo anche gli altri ordini professionali, continua intanto la battaglia degli avvocati. A Lanciano, polemiche sul nuovo ospedale, Pupillo, laverì, faccia chiarezza. Questo è l'appello all'assessore regionale, ci sarà anche una conferenza stampa del sindaco questa mattina. Poi a Vasto, suora Vastese, consigliere del Vaticano. Ancora, andiamo a vedere sempre dal capologo Teatino, la storica processione sfila tra i divieti, corteo blindato e luci spente. L'appello del priore raccomando rispetto per la tradizionale processione del venerdì santo a Chieti. Andiamo avanti, adesso ci spostiamo sulla edizione teramana, sempre del Quotidiano Il Centro. Il titolo di apertura è inchiesta su due ufficiali dell'arma. La procura di Teramo ne chiede il rinvio a giudizio per favoreggiamento e abuso. Poi, nello spazio delle cronache, il Consiglio Comunale di Teramo, centrale della Cona, polemiche sul trasferimento, l'impianto dell'Enel sarà spostato dall'altra parte della strada per la minoranza. È solo un contentino, la maggioranza dice meglio di niente. Ci spostiamo a Santomero, scelta la Terna per il primario di Medicina. E poi ancora a Tortoreto, il Circolo Tennis rinuncia all'ampliamento. Andiamo a vedere la fotonotizia di centropagina. Roseto, calcio vietato per tre ragazzi senegalesi, il presidente della società non può iscriverli alla federazione. Poi ancora il processo Castrum-Vira su Teramo, le accuse della finanza sull'ex ospedaletto dell'Asl pagati, lavori mai eseguiti. Continuiamo con il centro, l'ultima delle quattro edizioni provinciali, quella aquilana. In apertura, negozi, le proposte contro la crisi. I commercianti presentano il loro piano per risollevare il centro storico del capologo di regione. A Sulmona siamo nella fotonotizia. La città si veste di luci per ricordare il giovane Simone. Poi, nello spazio delle cronache, la fiction sul sisma. Anche Biondi resta deluso. Il sindaco era entusiasta della fiction firmata da Marco Risi sull'Aquila. Aveva detto, racconterà delle verità. Ma dopo la prima puntata ha cambiato opinione. Poi Avezzano, tassa sui rifiuti, salasso per bar e ristoranti. A Sulmona, sugli asili nido, il comune paga i rimborsi. Ancora brucia la posta, porta lettere, finisce nei guai. Denunciato, ora rischia il licenziamento, la 46enne di Gioia in servizio a Pesca Seroli. Lasciamo il quotidiano in centro. Adesso ci spostiamo sull'inserto abruzzo del messaggero. La prima pagina, eccola qui, con il titolo di apertura. Di Sesto dell'Aca, tre condanne. Maxi Buco dell'azienda aquedottistica, inflitti quattro anni all'ex presidente di Cristoforo. Pene minore al componente delle CDA di Luzio e al DG Forestieri, patteggia di Michele. E' questo dunque il sunto di quanto accaduto in tribunale a Pescara. Questione Bussi, sito dei veleni, via libera alla bonifica. Parte dunque la bonifica della discarica di Tremonti, via libera ufficiale, arrivato mercoledì dalla conferenza di servizi, che eccezionalmente si è riunita proprio a Bussi. Andiamo adesso a centro pagina. Violentò paziente in ospedale, il tribunale stanga l'infermiere Lanciano, l'operatore sanitario nega tutto, cinque anni di carcere. Poi ancora Rapposelli, il rebus del marito ad Ancona, nuova udienza a Teramo per il delitto della pittrice teatina Renata Rapposelli, spunto un viaggio sospetto dell'ex marito ad Ancona. La questione Rigopiano, quella telefonata rimasta nascosta per dieci mesi, sono 230 secondi in tutto, che oltre a riportare indietro fino alle 11.38 del 18 gennaio 2018, l'ora dell'inizio dei mancati soccorsi all'hotel Rigopiano, isolato dalla neve, scosso dai violenti terremoti di quella mattina, infine investito dalla valanga che provocò 29 morti, innescano uno scontro tra articolazioni dello Stato ancora in corso. Nel centro pagina troviamo anche la fotonotizia, comune maggioranza battuta sul bilancio, Avezzano si apre la crisi per la giunta De Angelis di spalla. La regione promossa l'esame dei bilanci, la Corte dei Conti, restano sotto osservazione la spesa e la scarsa capacità di investire, questo per quanto riguarda la decisione della sezione abruzzese della Corte dei Conti, che ha parificato ieri i rendiconti generali della regione per gli esercizi finanziari 2014 e 2015. Andiamo adesso nel taglio basso, Teramo, gli artisti delle vetrine, per quanto riguarda il commercio. Poi ancora nel taglio alto le altre notizie, Chieti, Assunzione al McDonald's, fanno la coda anche i laureati, in Serie B il Pescara Carpi rispolvera i senatori, in Serie D Giulianova vittoria ad ossigeno, il notaresco stoppa il Cesena, una tripletta di Leonetti salva la vastese in trasferta a Castelfidardo, Disastro Avezzano in casa con il Campobasso, Francavilla in remuntada pareggia. Andiamo a vedere anche la città, la prima pagina del quotidiano della provincia di Teramo, il titolo di apertura ultimatum traforo del Gran Sasso, strada dei parchi pronta a chiudere il 19 maggio per le implicazioni dell'inchiesta sull'acqua. Andiamo adesso nel taglio alto, probabile ricorso sull'asta della Team, intanto il sindaco traccia tre strategie differenti dopo l'apertura delle buste per il socio privato. A Teramo dopo 24 anni modificato lo statuto comunale, poi il candidato della Lega Tribuiani a Giulianova a case popolari prima ai giuliesi. Poi ancora a centro pagina l'omicidio Rapposelli, nella lettera al padre c'è la prova del PM, l'ammissione del delitto e il titolo sulla fotografia di spalla. L'omicidio Fabrizi, quel segreto di mio padre mai rivelato a nessuno, la sanità, la Will denuncia radiologia del Mazzini al collasso. E poi ancora il turismo, mannaia di Febbo sulle DMC, per l'assessore regionale 13 sono troppe, ne bastano tre. Nel taglio basso di Gian Domenico, così io e Bilotta raccontiamo una società distopica e dittatoriale, l'articolo che riguarda la cultura. C'è poi l'editoriale del direttore Alessandro Misson, 4.000 candeline con il giornale che è arrivato alla 4.000esima copia. Andiamo avanti con la lettura dei nostri giornali. Adesso ci spostiamo sul nazionale, andiamo a vedere i principali titoli dei giornali italiani. Partiamo dal Corriere della Sera. In apertura il governo vacilla sulle inchieste. Il sottosegretario si rindagato, i Cinque Stelle chiedono le dimissioni, un esposto sulle pressioni della Raggi Suama. la maggioranza, l'esponente del Carroccio dice sono tranquillissimo, non lascio il Ministero dei Trasporti, la sindaca, audio rubati, dico cose normali. Queste sono le reazioni. Le intercettazioni ci è costato 30.000 euro, appunto l'articolo di Fiorenza Sarzanini, sulle intercettazioni con l'imprenditore Paolo Arata, che dice al figlio Francesco queste parole, riferendosi ai compensi destinati al sottosegretario Armando Siri per modificare alcuni provvedimenti legislativi. Poi ancora altre riflessioni, quella di Massimo Franco, due forze sempre più divise, la strategia degli strappi nel governo. E poi, invece di spalla, le parole di Greta Thunberg, Odio la conversazione, parlo se serve, così l'attivista svedese, che in Italia è stata anche al Senato, oltre che in Vaticano. Andiamo adesso a vedere, invece, l'editoriale di Paolo Mieli, I torti e le debolezze, la tregua ambigua, tra parentesi, in Libia, e questa è la riflessione odierna su quanto sta accadendo in Libia, sulla crisi che ha portato il Paese alla guerra civile. Trump e le interferenze russe, non c'è prova di collusione nel centropagina, il procuratore tentò di ostacolare gli inquirenti, ma non è impeachment. Proseguiamo con la Repubblica, il titolo, il governo, mai così diviso, mazzette e mazzate. Caso Siri, il sottosegretario leghista, indagato per corruzione, il Movimento 5 Stelle ne chiede le dimissioni, ma Salvini chiude e dice, non se ne parla, intanto il caso Raggi, audio, rivelano l'ordine al manager dell'Ama, devi cambiare il bilancio, la Lega lasci il Campidoglio, dunque richieste di dimissioni incrociate. Il commento di Massimo Giannini, i re sono nudi, ma lo è anche l'Italia, e poi il caso, la sindaca fuori controllo, è l'articolo di Sergio Rizzo. Anche qui troviamo la foto, la fotonotizia di Greta Thunberg, voi ci guardate e non capite, ieri in Senato, oggi in piazza, l'attivista svedese per il clima. Nel taglio basso, l'articolo di Federico Rampini dagli Stati Uniti, il rapporto Mueller-Russia Gate su Trump, il brivido dell'impeachment. Andiamo sulla stampa, apertura, corruzione, siri indagato, Movimento 5 Stelle, prove di colpevolezza, la Lega è pronta al voto. Inchiesta dell'antimafia, il leghista accusato di aver ricevuto mazzette, grillini, andiamo dai magistrati con i documenti, ma Salvini lo difende. Governo paralizzato, scrive Francesco Bei, quelle liti che portano alle urne. Poi Roma, la guerra dei rifiuti, ama un'intercettazione, mette nei guai la raggi, Lombardi ora chiarisca. Di spalla, il Russia Gate, rapporto di Mueller, Trump provò ad ostacolare la giustizia, l'articolo che arriva da New York di Gianni Riotta. Poi a centropagina, il film di Bellocchio, che racconta il traditore Buscetta, al Festival di Cannes, così abbiamo scovato l'anima di Don Masino, e l'articolo appunto che riguarda questa notizia. Proseguiamo sul Fatto Quotidiano, la fotonotizia di apertura, Salvini, Siri e quei compari in Sicilia, il sottosegretario indagato, tangenti da socio dell'uomo di Messina Denaro, Di Maio, si dimetta, ma la Lega lo difende, chiede la testa di Virginia Raggi. Il buco nell'indagine, Arata, vaccina con Siria a Roma, e i PM smettono di intercettarlo. Poi l'intervista di Battista, noi e il carroccio agli antipodi sulla legalità, fuori chi sbaglia. Andiamo a vedere poi le altre notizie di Spalla a Roma, nei rifiuti, la Raggi al Capo di Ama, bilancio da cambiare, città nella merda, poi DL Dignità, gennaio-febbraio, i contratti precari divenuti stabili salgono all'82%, e ancora PM preoccupati, il pentito Messina accusò Andreotti, ora non si trova da oltre tre mesi. Andiamo sul Sole 24 Ore, qui cambiamo decisamente tenore, nell'apertura all'Italia, incamerati 900 milioni del prestito ponte pubblico, restituzione sine die, senza data, una norma del DL crescita cancella, dopo tre proroghe, il termine del 30 giugno, e c'era chi l'aveva anticipata questa cosa già dall'inizio, l'eventuale restituzione condizionata all'entità dell'attivo disponibile, la compagnia cerca soci, no, tra parentesi superabile di Castellucci, su un ruolo per Atlantia, si cerca sempre una via d'uscita alla crisi di Alitalia, con nuovi capitali da immettere, non soltanto pubblici, ma anche privati. Poi ancora i casi siri-raggi, scuotono il governo, esplode la tensione fra Lega e 5 Stelle, il sottosegretario indagato per corruzione dalla sindaca, pressioni sul bilancio di Ama, e poi il bollettino sul primo trimestre, Banca Italia, PIL allo 0,1%, ma segni di credit crunch, cioè di stretta creditizia, soprattutto verso le imprese. Andiamo adesso nella fotonotizia, a vedere il via libera bis, al decreto sblocca cantieri, appalti escluso dalle gare, chi evade. Sul manifesto ora, il titolo sulla fotografia, la questione immorale, il titolo con il ministro Toninelli e Siri, tra Lega e 5 Stelle e guerra giudiziaria, il ministro Toninelli toglie le deleghe al sottosegretario Siri, indagato per corruzione in un'inchiesta sull'eolico, e Di Maio ne chiede le dimissioni. Poi escono gli audio della sindaca Raggi, Suama e Salvini chiede la sua testa. Nel taglio alto, Extinction Rebellion si prende Londra, la protesta del movimento ambientalista paralizza la capitale. Friday for Future, Greta a Roma, non per i selfie, queste le parole dell'attivista svedese. Andiamo su avvenire, il quotidiano cattolico, Roma e maggioranza fuori controllo, Rissa Lega e 5 Stelle, il sottosegretario Siri, indagato per corruzione, la sindaca Raggi intercettata. Poi nel taglio alto, la lavanda dei piedi, il Papa lava i piedi ai carcerati, siate fratelli nel servire. Francesco ha celebrato la messa in scena, Domini nella casa circondariale, la lavanda, un gesto da schiavi a imitazione di Gesù. Poi ancora il messaggero, torniamo invece alle questioni politiche. Siri, indagato governo a pezzi, il titolo di apertura, il sottosegretario accusato di corruzione, Toninelli, gli toglie le deleghe, Di Maio si dimetta, Salvini lo difende, attacca sul Roma, il sospetto, il Movimento 5 Stelle, vuole spingerci alla crisi prima del voto. Nel taglio alto, le pressioni su Ama, un adio in guaia, la Raggi, la sindaca al manager, devi modificare i bilanci, la Lega, lasci, lei, io, sono una vittima. L'editoriale di Carlo Nordio, richiami dalla foresta, con la minaccia giudiziaria, salta il banco giallo-verde. Poi, a centropagina, la fotonotizia, che ci porta negli Stati Uniti, il Russia Gate, assoluzione a metà per Trump. L'accusa dell'FBI, voleva ostacolare le indagini su di lui. Sul tempo, ancora quotidiani romani, i romani alla finestra, vedono merda. Virginia Raggi, intercettata, mentre ammette con crudezza, la sporcizia della capitale. E se aumento la Tari, i cittadini mettono la città a ferro e fuoco, altro che gile gialli. Indagato per corruzione, nel frattempo, Siri, il papà della flat tax di Salvini, Di Maio, dice, lasci. Andiamo adesso sul libero. Così, si incentiva l'illegalità. Se sale l'IVA, crescono gli evasori. Tria pensa che aumentare l'imposta sui consumi sistemerà i conti, ma è una pia illusione. Più tasse da sempre significano più nero. Fattura elettronica, sistema in palla, si devono fare i calcoli a mano. Il reddito di cittadinanza è già fallito, protesta pure chi lo riceve. Andiamo nel centro pagina. Vertice di governo in Calabria. Conte promette al sud una pioggia di quattrini e poi chi è la 30 dal CCD al Movimento 5 Stelle e la Ministra della Difesa che bombarda Salvini. L'editoriale del direttore Vittorio Feltri, La Mancia Grillina, è un bidone vuoto questo per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Andiamo sulla verità. Siamo arrivati alla resa dei conti. Governo a rischio per 30 mila euro. Questo è il titolo di apertura. L'indagine sul sottosegretario leghista Siri per una presunta mazzetta scatene Grillini, Toninelli gli irriti dalle deleghe, Di Maio ne chiede le dimissioni immediate e il carroccio lo difende. È solo l'ultimo episodio della guerriglia tra i due partner, però, può essere quello fatale. Il contrappasso, la raggia accusata di aver manipolato il bilancio dell'Ama, la Lega invita alle dimissioni. A centro pagina, i sindaci rossi vogliono tenersi stretto il degrado, la foto con Leoluco Orlando e De Magistris, sindaco di Napoli, e poi ancora a centro pagina i misteri della banca che finanzia Prodi. Piovono accusi sull'istituto di San Marino che erogò 750 mila euro alla società del fratello di Romano. Andiamo sul mattino di Napoli. Siri e Raggi, le inchieste fanno tremare il governo e il titolo di apertura. Poi il caso arriva in reddito, aspettavamo assegni più alti per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. E poi a centro pagina l'Europa League, azzurri eliminati, la delusione del San Paolo, notte fonda e il titolo sul Napoli che spreca, l'Arsenal non perdona, la rabbia di Insigne è sostituito e fischiato. Questo titolo ci introduce ai quotidiani sportivi nazionali, andiamo a vedere insieme la gazzetta dello sport, l'apertura, eccola qui, domani c'è la Roma a San Siro, Inter assalto triplo, è il titolo principale, Champions, una vittoria per consolidare il terzo posto e lasciare gli avversari senza i soldi della Coppa, Pellegrini fuori dai primi quattro pallotta dovrebbe vendere, Lorenzo costa 30 milioni, ipotesi rado più soldi, poi Zecocchi, al mercato e anche per il Bosniaco nel dopo i Cardi, giallorossi seguono, Benedetto del Boca. Taglio alto, bye bye Italia, l'Arsenal affonda in celotini, anche Napoli in Europa, Sarri avanti col Chelsea, sono possibili due finali inglesi, l'Euroleague, il ritorno dei quarti, la Gazette, Gela, il San Paolo finisce 0-1. Il commento di Pierfrancesco Archetti, Carletto non fa il miracolo e poi il bilancio di Fabio Bianchi, tutti fuori, ma quale rilancio. Andiamo a centropagina con la Juve, dove è finita la gioia di Bala, prova proprio un anno orribile, ma Paolo vuole ripartire dalla Juve, bianconeri lanciati nell'asta per Zaniolo, rifiutati 50 milioni, intanto c'è la questione di Bala. Tra panchina e rinnovo al ribasso, nel futuro del Milan, Biglia può rotolare verso il passo d'addio, il ritorno di Coppa con la Lazio, allerta per i cori razzisti, contro Baccaio Co. Andiamo a vedere le altre notizie, dal fallimento alla Ciri, parte la favola del Bari, promosso con due giornate di anticipo, e poi Fognini e Sonego, che show Monte Carlo parla italiano, i due azzurri volano nei quarti, per quanto riguarda il tennis. Andiamo sul Corriere dello Sport, eliminato anche il Napoli, l'Italia fuori dall'Europa, poveri noi, l'Arsenal passa al San Paolo, 0-1, decide una punizione di Lacazette, Insigne sostituite, esce tra i fischi, Ancelotti, i risultati verranno. Poi di Bala per Icardi, ma Paolo non ci sta, Juve e Inter riallacciono i contatti, e lavorano allo scambio, e il bianconero si impunta, vuole restare o andare all'estero. Taglio basso, Bari così si risorge, un anno, in meno di un anno, De Laurentiis Junior, centra la C, vincendo a Troina, e poi Fognini show, colpo Sonego, a Monte Carlo, per quanto riguarda il tennis. Andiamo su Tutto Sport, e chiudiamo questa prima parte, della nostra rassegna stampa, a fare per due, di Bala Icardi, Paratici e Marotta, valutano il clamoroso scambio, e pro e contro, da Emre Can, difensore, ai nuovi acquisti, ecco il progetto Allegri, il dossier, bianconeri primi, fra le big di Champions, per gli infortuni. Nel taglio alto, il cuore non basta, Napoli K.O a testa alta, in Europa League, 1-0 con l'Arsenal, al San Paolo, semifinali, delle due coppe senza italiane, Rams e Iguaio muscolare. Poi, precedenti allarmanti per i Granata, il Toro protesta, ecco Doveri e Mazzoleni, i tifosi del Genoa scioperano, contro Preziosi, non entriamo allo stadio Marassi. Poi ancora l'Inter, Zhang, vuole il team manager azzurro, torna Oriali per affiancare Conte, rinnovato l'accordo con Radici Gruppo Atalanta, da record, anche il fatturato, in un anno davvero eccezionale, per l'Atalanta. E noi ci fermiamo con questa prima parte di Rassegna Stampa, adesso diamo spazio alle previsioni del tempo per le prossime ore, poi alla pubblicità, e torniamo con la seconda parte della nostra Rassegna Stampa, in cui andiamo ad aprire le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte della nostra Rassegna Stampa, pagine interne dei quotidiani abruzzesi, nel primo piano del centro, l'autostrada 24, il traforo del Gran Sasso chiude a maggio, la notizia è stata ufficializzata da strada dei parchi, non toccano a noi i lavori di messa in sicurezza dell'acquifero, dicono dalla società che gestisce le autostrade verso Roma. E poi infrastrutture ferroviarie, totocostruzioni, ripartono i lavori per il tunnel di Cefalù, ricerca e gestione risorse umane, Maroni, nuovo presidente della Human Gest Holding. Poi ancora mobilità elettrica, Abruzzo Maglianera, il dossier di lega ambiente, sono 48 le colonnine per la ricarica delle auto e 29 per le biciclette. La pagina Abruzzo, i giudici contabili, la Corte dei Conti, regione troppe spese e pochi investimenti, l'ente ottiene il giudizio di parificazione sui rendiconti 2014 e 2015, sottolineati i ritardi nella presentazione dei documenti. Di spalla per il trasporto pubblico, Gianfranco Giuliante, il nuovo presidente della TUA e poi nel taglio basso, il consorzio di tutela dei vini, rinnovati i vertici di Campi, confermato presidente, al lavoro per veicolare la produzione sui mercati nazionali ed esteri. Adesso andiamo sulla pagina Abruzzo del messaggero, il nodo trasporti, TUA-Valla Lega, Giuliante eletto presidente, sostituisce Tonelli, incappato nella tagliola dell'ANAC, affronteremo subito la questione, Giulianova, Roma. Questa è la promessa di Giuliante, sul tavolo il problema delle rotte commerciali non pagate dalla regione. Nel taglio basso, ultimatum ancora un mese per la chiusura del Gran Sasso, strada dei parchi ha annunciato lo spostamento per non creare disagi sotto Pasqua, il governatore Marsilio, che ha portato il dossier all'attenzione di Conte e Toninelli. Pagina Abruzzo sulla città, Giuliano è nuovo presidente della TUA, è la notizia in primo piano, il leghista ha nominato ieri durante l'assemblea dei soci, alla presenza del governatore regionale Marco Marsilio, uomo d'esperienza, già vicepresidente della provincia dell'Aquila, è stato assessore regionale durante la presidenza di Gianni Chiodi. Di spalla, violenza sessuale all'ospedale Renzetti a Lanciano, con danno a 5 anni per un infermiere, nel taglio basso la cronaca, sporcizia e cibo a rischio dai controlli del NAS in vista delle feste di Pasqua, Terramano denunciato per tentata frode, esponeva colombe industriali spacciandole come produzione propria. Il delitto Fabrizi, restando le notizie di primo piano sulla città, quel segreto di mio padre mai rivelato a nessuno, per la prima volta parla la famiglia dell'avvocato dei misteri, Fabrizi, vittima di un giallo irrisolto da 28 anni. 6 ottobre del 91, in Piazza Muzzi, al centro di Pescara, un uomo dagli occhi di ghiaccio con la pistola calibro 7,65, esplode due colpi contro l'affermato e notissimo avvocato. Andiamo alla chiusura del traforo, che slitta il 19 di maggio. Strada dei Parchi conferma la decisione anticipata al Ministero dei Trasporti dopo l'inchiesta della Procura di Terramo. provvedimento cautelativo, strada dei Parchi teme la possibilità di contestazione della reiterazione del reato di pericolo di inquinamento. Di spalla la reazione per gli ambientalisti del Forum dell'Acqua è uno scaricabalile con tanta voglia di commissario. Il taglio basso, il Comune sorteggerà gli scrutatori per le elezioni europee nel voto al capoluogo per quanto riguarda le elezioni europee. Il voto a Terramo. Torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo ad aprire la pagina di Pescara, intervista all'Arcivescovo, il monito di Valentinetti, dobbiamo contrastare la deriva razziale in atto. Il messaggio del presule ai pescaresi alla vigilia di Pasqua sta prevalendo la paura dell'altro e si soffocano le energie positive. Appello ai candidati a sindaco, seguiamo un'idea e se vogliono la fiducia dei cittadini lo facciano per servizio, da condannare in trasfughi, sono deleteri. Favorevole al mercatino etnico, se ci sono illegalità si possono contrastare con i controlli e chi lo chiuderà se ne assumerà la responsabilità. Sanità da sostenere, ci sono delle strutture che funzionano e vanno aiutate, ad esempio l'ospedale, per le sue professionalità. Queste alcune delle dichiarazioni di Valentinetti. Proseguiamo l'aggressione in centro a Pescara con il processo di soffidanzatini pestati, patteggia e torna libera la donna del branco. Megan Giannini concorda davanti al GUP la pena subito sospesa di due anni, due mesi e 26 giorni, ancora in attesa di giudizio e gli altri tre responsabili. Il giudice nega a Tiberi la messa alla prova. E poi ancora in silenzio i banditi della gioielleria, i due arrestati per l'assalto a officine complicato, non rispondono alle domande del giudice. E poi ancora il 27 aprile all'Aurum, minori in istituto, seminario con gli assistenti sociali. Processo con rito abbreviato per bancarotta all'ACA, quattro anni a Di Cristoforo, l'ex presidente condannato con l'ex DG Forestieri e un componente del CDA, patteggia l'ex vicepresidente di Michele. I tre condannati con rito abbreviato dovranno risarcire l'azienda provvisionale di 100 mila euro. Gli imputati accusati di aver distratto somme di denaro per spese di ristorazione e acquisto di carni. E poi l'azienda rimanda le bollette dell'acqua. Molti cittadini non hanno ricevuto le ultime fatture, ma non saranno applicati interessi di mora. Queste le problematiche invece più di attualità. verso le comunali, a Pescara, il centro-sinistra, la gara di assessori e consiglieri per un posto nelle liste di sclocco. 12 gli uscenti che si ricandidano. Pagnanelli, Cuzzi, Presutti e Natarelli sono tra i confermati. No di Marconi, di Giampietro e Zuccarini. Anche Marcheggiani ha rinunciato dicendo largo ai giovani di spalla e Alessandrini rinuncia anche a candidarsi al Consiglio. Il sindaco dunque abbandona, almeno per il momento, la politica attiva. Cozzolino lancia Catalano e Giampietro. L'europarlamentare PD è la presentazione dei due candidati. Sclocco e Blasioli dicono meritano fiducia. La candidata dei 5 Stelle, Erika Alessandrini, piano per tutelare le coppie gay. Questa è una proposta in campagna elettorale. E poi Costantini fa il patto con Più Europa nelle liste dell'ex deputato. Due studenti di 22 anni. Il gruppo politico rinuncia al simbolo e sostiene il candidato sindaco. Andiamo ancora avanti. I lavoratori di metro scioperano e chiedono il contratto integrativo. Questa mattina manifestazione di protesta a San Buceto, Frigelli della CISL, in programma un'altra astensione di otto ore. La decisione dei genitori, mensi, il comitato sospende la protesta del pasto da casa. Poi ancora mercatino etnico, slitta l'apertura, Natarelli, necessari altri lavori nel sottopasso, tutto rinviato dopo la Pasqua. E poi ancora comune riparte la protesta per le indennità ai dipendenti che non sono state ancora pagate. Proseguiamo. Donazione organi. I volontari dell'Aido incontrano il Papa. Le parole di incoraggiamento del Pontefice. Poi disabilità. Gli studenti protestano in carrozzella alla Antonelli. Contro le barriere architettoniche. Nella pagina di Montesilvano, Via di Vittorio, l'incompiuta è finita e il distretto sanitario diventa realtà dopo 24 anni di attesa. Il primo progetto infatti risale al 1995 quando era sindaco Renzo Gallerati. Martedì l'inaugurazione, ma è già aperto per le vaccinazioni. Poi tanti ex, ma anche new entry, le liste iniziano a prendere forma per le amministrative del 26 di maggio a Montesilvano. A sostegno di fidanza, candidato del centro-sinistra, potrebbe comparire l'ex sindaco Renzo Gallerati. D'Ignazio, esilurato dal PD, pronto a passare nella lista di Tereo dell'Anderset. Paola Ruggeri, invece, con Forza Italia. Materassi lasciati in Pineta, responsabile smascherato a Montesilvano con fototrappole, appostamenti carabinieri forestali, hanno individuato e denunciato chi aveva abbandonato gli ingombranti. le tipicità angolane nei documentari delle TV della Cina a Città Sant'Angelo e poi gli studenti del liceo d'Ascanio alle nazionali di robotica. A Francavilla, sicurezza stradale, sei patenti ritirate per uso di alcol e sulla variante arriva il telelaser, decine di automobilisti fermati ai posti di blocco allestiti in via l'Alcione e lungo la nazionale e durante i giorni di festa controlli della polizia incrementati sulle vie più trafficate. Chiudiamo le pagine di Pescara sul centro, i familiari, quelle frasi, un colpo al cuore, parliamo chiaramente della tragedia di Rigopiano, dolore e sgomento dei parenti delle vittime per le intercettazioni degli indagati che commentavano le richieste di aiuto. Le altre notizie, addio a Celestino Cantagallo, penne piange il suo ex sindaco, amministrò la città dal 77 all'85. Andiamo sul messaggero per le pagine di Pescara. In apertura ritroviamo la questione H, fallimento H, 4 anni a De Cristoforo, l'ex presidente dell'Acquedotto, già condannato a 8 anni per tangenti, riconosciuto colpevole del default dell'azienda. Pene minori, 2 anni e 8 mesi, per l'ex componente delle CDA Concetta di Luzio e per l'ex direttore Candeloro, Forestieri. Perdite per 33 milioni complessivi e un dissesto da 126 milioni occultati con bilanci falsi, mentre i dirigenti incassavano premi e rimborsi. queste accuse. E poi la prima a pagare è la donna del branco, Megan Giannini, patteggia due anni e due mesi, slitta alla decisione per Francesco Tiberi, prosegue il processo contro Filippo D'Ausilia. Questo per quanto riguarda la questione dei fidanzatini pestati a Pescara. Poi verso le elezioni, Costantini incassa l'aiuto di più Europa in corsa con l'avvocato Vittorio Iovine, Franca Berardi e Simonetta Quieti, la Alessandrini. Apre invece al mondo gay. Poi Ricopiano, la telefonata nascosta per dieci mesi, la richiesta di soccorso del cameriere Gabriele D'Angelo al centro dell'inchiesta bis sul depistaggio delle indagini. L'annotazione che non figura nella relazione della prefettura dal 31 gennaio era stata già consegnata dalla mobile di Forestali. Dunque questo è il report sulla strage di Rigopiano che costò la vita a 29 persone. Proseguono le polemiche su quanto accaduto in quei giorni, in quelle ore a Rigopiano e vedremo poi come andrà a finire invece l'inchiesta e il processo. Andiamo avanti, anche qui troviamo le parole di Valentinetti anche sul messaggero abbandonare la paura una Pasqua all'insegna dell'inclusione ieri nel carcere di San Donato messa con i detenuti fino a domenica impegni del Vescovo in tutta la diocesi per le manifestazioni legate alla Pasqua. Finalmente la bonifica via libera ai lavori nella discarica Tremonti via libera ufficiale della conferenza di servizi riunita in comune è un giorno importante dice il sindaco Lagatta per quanto riguarda Bussi 12 anni dopo la scoperta della mega discarica. Colpo grosso della Human Gest Maroni presiede il CDA soddisfazione di Gelli per l'ingaggio dell'ex ministro dell'interno e governatore della Lombardia poi Ruggero e Paolo Rossi scelgono Enzo Fidanza Montesilvano prende forma allo schieramento del centro-sinistra e ancora fede tradizione Loreto anche il Vescovo al corteo la processione torna all'antico andiamo nella pagina di Chieti restando in tema delle manifestazioni legate al venerdì santo il giorno della processione città fra turisti e tanti divieti le automobili dirottate nel parcheggio trasporto garantito ogni 5 minuti dei bus navetta niente in bottiglie di vetro e lattini in centro via tavoli ombrelloni e sedie davanti al bar di spalla la caccia al lavoro per i posti al McDonald's spuntano molti laureati molti in coda per appunto presentare il curriculum poi abusi sessuali in corsia condannato 5 anni e 2 mesi di reclusione a un'infermiere a Lanciano il fatto si verificò nel gennaio 2016 nel reparto di psichiatria la giovane vittima venne palpeggiata dal 63enne nelle parti intime con il pretesto di fare un elettrocardiogramma andiamo nelle pagine di Chieti sul quotidiano il centro eccole qui assalto fallito il racconto del colpo caccia al baby rapinatore con la pistola il rompe nella tabaccheria e pretende soldi ma il titolare reagisce ho preso un tagliacarte ed è scappato andiamo avanti e torniamo al al colosso del fast food che assume 200 giovani in fila per il posto al McDonald's studenti universitari neolaureati e disoccupati si contendono le 50 assunzioni pagina successiva suora Alessandra scelta dal Papa come consigliere del Vaticano a Vasto originaria della città studiato al Mattioli poi la consacrazione di studi universitari e docente di economia politica dell'auxilium ed è la più ascoltata dalla conferenza episcopale ancora e caccia al quarto rapinatore dell'orefice Cupello oggi l'interrogatore in carcere dei tre arrestati indagine per i collegamenti con altri raid e poi nel taglio basso morte sospetta chiedono giustizia da un anno i familiari dell'ex consigliere comunale di Furcic sollecitano la conclusione delle perizie passiamo alle pagine di Teramo inchiesta sui carabinieri la procura vuole processare due ufficiali accuse di favoreggiamento per il tenente colonnello De Luca Speranza e di abuso per il colonnello Romano pressioni sul militare che indagava sul maresciallo Angelini era imputato per truffa e falso l'avvocato di Renata temeva l'ex marito nuova udienza del processo per l'omicidio della pittrice sentita anche la psichiatra di Giuseppe Santoleri e poi la sentenza truffa agli anziani Giuliese condannato a tre anni pagina successiva calcio vietato per tre ragazzi senegalesi il presidente dell'Universal Roseto non può fargli giocare per alcuni cavilli di legge spero che il presidente della FIGC ci aiuti poi ancora vertice a Roma 40 giorni per salvare il mercatone sit-in dei dipendenti di Pineto Colonnella e San Giovanni Tiatino nel taglio basso bilancio consuntivo si riduce il disavanzo il sindaco di Roseto stiamo amministrando in maniera prudente per rimettere a posto i conti del comune nella pagina successiva il comune di Atri dice siamo pronti a livelli legali contro la distinzione di scarica il sindaco Ferretti conferma che si batterà contro l'ampiamento dell'impianto di Santa Lucia è un problema che non riguarda soltanto noi dice ma interessa tutta la costa e la vallata del fino ancora false cittadinanze prosciolti vigile impiegata accadono le accuse a due dipendenti del comune di Pineto e Roseto per loro inchiesta archiviata andiamo adesso sul messaggero per le pagine di Eteramo Team assegnata alla Comir Iachini non vuole arrendersi l'imprenditore Teramano potrebbe impugnare la gara vita dai Veneti contestato il subentro del gruppo Gavioli che già controllava l'ex gestore Enertec la cessione delle quote della multiservizi scatena la bagarre il sindaco d'Alberto dice una situazione decisamente complessa di spalla negozi ecco gli artisti per allestire le vetrine nel taglio basso al consiglio comunale si è parlato della centrale Enel della Cona nasce un parco nel quartiere del capoluogo e poi la udienza per il processo per l'omicidio di Renata Rapposelli Giuseppe andò da solo in treno ad Ancona in aula l'avvocato Carmela Ugello racconta come Santolero padre reagì dopo la sentenza sul mantenimento Renata si nascose in casa per non farsi vedere dall'ex marito gelo in aula con il figlio Simone i due non si sono neppure guardati andiamo sulla città adesso per proseguire la lettura delle notizie dal Teramano probabile il ricorso sull'asta della Team l'imprenditore Teramano Iachini contesta la partecipazione di Gavioli e poi dopo 24 anni cambiato lo statuto comunale il consiglio comunale ratifica le modifiche sui consiglieri delegati partecipazione vice ed emendamento morra centrale della cona approvata la delocalizzazione dell'impianto dall'altra parte della strada statale e poi passa la mozione verna sui parco giochi attrezzati per i disabili e quella speca sulla scuola del futuro solidarietà nel nome di Valerio Giannobile e gli amici di Culone per il terzo anno consecutivo hanno raccolto donazioni per una situazione sociale difficile poi Will radiologia del Mazzini al collasso questa la denuncia nel reparto solo 8 tecnici sanitari di radiologia medica rispetto ai 16 previsti così chiaramente aumentano le liste d'attesa per quanto riguarda il turismo la mannaia di Febbo si abbatte sulle DMC l'annuncio a Montesilvano 13 sono troppe ne faremo 3 per la costa la collina e la montagna l'incontro l'assessore regionale ha incontrato diversi amministratori della costa nella sala consigliare di Montesilvano andiamo a Bellante adesso scarichi abusivi dalla lavanderia industriale additivi detersivi e soda caustica venivano versati direttamente nelle fogne e sequestrata una linea di lavatrici e poi fino al 30 settembre di spalla ripresi i controlli dell'artabruzzo sulle acque di balneazione andiamo avanti pronta la terna per il primario di medicina interna della Val Vibrata primo nella graduatoria dell'Asli il dottore Francesco delle Monache Giuliano va al voto Tribuiani case popolari prima ai Giuliesi il posto del candidato leghista su Facebook in cui annuncia la volontà di cambiare lo statuto comunale scatena le polemiche lo possiamo vedere il post eccolo qui modifica dello statuto del comune di Giulianova prima i Giuliesi ecco qua il post riportato dal giornale nel taglio basso poi ancora la politica Dino Macera ripropone l'unità del centro sinistra Giuliese il candidato sindaco di Bella Giulianova raccoglie l'appello lanciato da Mastro Mauro torniamo sul processo Rapposelli nella lettera al padre l'ammissione dell'omicidio il PM presenta una missiva spedita dal carcere in cui Simone accusa Giuseppe parlando apertamente del delitto nella lettera non c'è mittente ma quella raccomandata l'avrebbe pagata Simone come risulta dall'interno del penitenziario di Lanciano adesso torniamo sul quotidiano il centro andiamo ad aprire le pagine dell'Aquila centro storico il movimento negozianti commercio quattro proposte contro la crisi l'imprenditore Mastropietro alla guida del nuovo comitato ha incontrato l'assessore Mannetti per il rilancio del settore poi ancora le polemiche sulla fiction l'Aquila grandi speranze la fiction racconterà la verità di Sebbiondi che poi dopo la prima puntata ha cambiato opinione poi ancora l'archivio sisma non finanziato e bufera prima grana per le iniziative del decennale poi l'indagine con la dipendente delle poste che rischia il licenziamento brucia la posta porta lettere denunciata la 46enne di Gioia dei Marsi era in servizio a Pesca Sero Lea Vezzano la lotta alla droga spaccio ai giardinetti terzo arresto andiamo sulle pagine dell'Aquila sul messaggero sicurezza negozianti in pressing per avere la videosorveglianza e l'articolo in primo piano con il vertice tra le associazioni a Palazzo Fibbioni dopo i furti e il dilagare delle slot machine nella pagina successiva andiamo al comune di Avezzano bilancio De Angelis va sotto e traballa pesanti contestazioni in aula anche dalla maggioranza in 12 votano contro restano solo in 10 i fedelissimi contestazioni sul mercato ciclabile centro deserto e semaforo tempo fino alla fine del mese per recuperare poi tocca al prefetto andiamo adesso nelle pagine di sport eccole qui partiamo sul centro dalla serie B lunedì la trasferta a Carpi del Pescara Pescara Bomber Mancuso vuole tornare a graffiare l'attaccante a secco di gol su azione da 451 minuti l'ultimo acuto lo scorso 3 di marzo contro lo Spezia ora punta gli emiliani di Castori già infilzati nella partita di andata nel taglio basso Pillon al cabassi sfida il mal di trasferta del fino reduce da 4k o esterni di fila il tecnico agli uomini contati a centrocampo andiamo a vedere l'apertura del messaggero per quanto riguarda l'Abruzzo Sport il Pescara a Carpi punta sui senatori Pillon ritrova Campagnaro e schiera la difesa over 30 con Balzano Occiofani e Del Grosso possibile rinvio per l'esordio di Bettella e il talento deve dimostrare più continuità per quanto riguarda poi la serie C Celli Teramo contro la Vis senza sapere i risultati titolo sul Teramo anche sul quotidiano il centro domani al Bonolis bunker Vispesero Maurizzi prepara un Teramo d'assalto quella marchigiana è la miglior difesa del girone B Sparacello Infantino in avanti dal primo minuto Celli dice voglio il gol per quanto riguarda il trofeo delle regioni rigori fatali la Juniors si ferma in semifinale andiamo a vedere il titolo sul Teramo anche sulla città eccolo qui Celli prenota l'esultanza sotto la curva est l'esterno Mancino vi spiego le mie tre gioie la prossima volta corro sotto i nostri tifosi sabato sera prezzi ridotti la società Biancorossa ha promosso un'iniziativa conserviamola insieme tutti al Bonolis per permettere un maggior numero di spettatori in vista della gara delicata in chiave salvezza contro la Vis Pesaro torniamo sul quotidiano il centro apriamo la serie D con la trentasesima giornata gioiello di Barlafante Real Giulianova respira il Milleniar entra nella ripresa e realizza il gol decisivo contro il Montegiorgio nel turno di serie D giallorossi si riscattano dopo tre sconfitte di fida e restano a più uno dai play out poi Tomassini illude il Pineto l'Agnonese lo ribalta partita finita 3 a 1 il sedicesimo gol stagionale dell'attaccante non basta i molisani calano il tris nella ripresa ma è un K.O in dolore andiamo avanti per quanto riguarda sempre la serie D la capolista bloccata al Bonolis notaresco pareggio show Candellori il Cesene il Rosso Blu vanno sotto due volte in pieno recupero ciuffano i bianconeri la corazzata romagnola fallisce allo lungo decisivo per la promozione in serie C prima di andare a vedere il servizio andiamo torniamo sul messaggero per vedere alcuni titoli sulle partite che abbiamo visto in precedenza Pineto non pervenuto perde 1 a 3 ad Agnone poi magia di Barlafante per il Giulianova vittoria scacciacrisi ossigeno puro per il Reale che vince al Fadini e poi figurone notaresco che stoppa il Cesena vediamo il 2 a 2 nel servizio per un paio di minuti ad inizio riprese il Cesena in serie C grazie alla vittoria che stava maturando sul notaresco ed il concomitante 2 a 2 tra Matelica e Savignanese poi Matelica ha vinto mentre il notaresco in pieno recupero è riuscito a riacciuffare sul 2 a 2 finale una gara in cui i rosso-blu sono andati sotto per due volte la formazione di Cudini deve rinunciare allo squalificato Mozzoni con il tecnico che manda in campo il tridente formato da Cancelli Minella e Moretti il Cesena invece non può contare su Ricciardo Torturi, Veangeris e Zammarchi con Capellini in attacco supportato da Tonelli Alessandro e Munari i rosso-blu hanno un buon inizio con Salvatori che già al secondo minuto gira di testa ma alto un cross dalla destra e ancora notaresco al decimo con un pallonetto di Candellori che però non trova lo specchio della porta il Cesena risponde un minuto più tardi quando Tonelli imbecca Capellini che viene chiuso però in calcio d'angolo due minuti ancora più tardi la formazione romagnola ci prova con Alessandro che trova però sulla sua strada Monti a negargli il gol la gara poi cala di ritmo e di occasioni con il Cesena che destra i presenti prima di rientrare negli spogliatoi al 39esimo Benassi gira di testa un calcio di punizione per portare in vantaggio i romagnoli azione su cui si chiude anche la prima frazione in termini di occasioni da segnalare la ripresa inizia con un quarto d'ora di ritardo per l'infortunio ad un assistente di gara del match tra Materiche e Savignanese con attesa dunque anche al Bonolis per avere la contemporaneità al secondo è subito Cesena con Tonelli che da calcio d'angolo trova in aria Biondini il cui colpo di testa è alzato in corner da Monti con un bel intervento quando la Savignanese pareggia temporaneamente i conti i 350 tifosi romagnoli presenti al Bonolis esultano in campo invece il notaresco è a rendersi pericoloso con Minella che di prima intenzione chiama Agliardi all'intervento per mettere il pallone in angolo dagli sviluppi poi Noce e Dalmazzi vanno a contatto con il direttore di gara che assegna il calcio di rigore al notaresco per il fallo subito proprio dal difensore Rosso Bluc Minella dal dischetto spiazza Agliardi e riporta la gara in parità per il Cesena dunque la partita cambia nel giro di pochi minuti ma al ventesimo i Romagnole si fanno di nuovo pericolosi Monti è molto brava ad opporsi al tentativo di Munari poi Alessandro raccoglie la sfera e pennella per Tonelli che però alza sopra la traversa due minuti dopo è la formazione di Cudini a farsi vedere con Minella che gira un calcio di connessione di Cancelli ma Agliardi si fa trovare pronto sul palo più lontano per mettere in angolo come nel primo tempo poi i ritmi calano ma la gara si accende di nuovo del finale su azione insistita del Cesena Fortunato entrato al posto di Capellini fa partire un tiro su cui Monte non arriva e che riporta avanti i Romagnoli i giochi però non sono chiusi perché in pieno recupero Candellori è più lesto di tutti ad approfittare di una difesa romagnola incerta per depositare il pallone alle spalle di Agliardi per quello che sarà poi il definitivo 2-2 il Cesena rimanda così la festa promozione mentre il notaresco vede ancora sfumare il successo che manca dal 3 marzo ma un punto contro la capolista è sicuramente motivo d'orgoglio per la formazione di Cudini che non avrebbe comunque meritato la sconfitta e allora il titolo della città Candellori rovina la festa il Cesena al 92esimo il notaresco come abbiamo visto due volte sotto con la capolista riesce a recuperare poi il titolo sul Giulianova perla di Barlafante Giulianova torna alla vittoria Montegiorgio al tappeto giallorossi a 40 punti Bolzan sbotta critica ok ma non alla persona torniamo sul quotidiano il centro invece polemiche e disperazione ad Avezzano l'ex Alessandro condanna l'Avezzano ma è polemica per il gol in fuorigioco partita finita 1-0 con il campo basso Biancoverdi sempre più vicini ai play-out il tecnico Colavitto è furibondo la rete sarebbe irregolare titolo che possiamo andare a vedere anche sul sul messaggero l'Avezzanova KO ora la salvezza diventa complicata lo stadio dei Marzi passa il campo basso 1-0 poi ancora pari Francavilla delusione in casa finisce 2-2 con i marchigiani della Iesina ma la squadra di Rachini è costretta a rimontare per due volte e resta in zona play-off errore di Gallo in occasione del primo gol del Leoncello Cruz rimediano Dos Santos e Palumbo nel finale andiamo a vedere il titolo sul Francavilla anche sul centro eccolo qui super spacca show ma per il Francavilla è un'occasione persa vediamo la partita spettacolo emozioni e 4 gol al Valle Anzuca dove il Francavilla riacciuffa per due volte un'indomita Iesina consueto 4-3-3 per Rachini costretto a rinunciare a Nazari in extremis al suo posto in difesa Alessandro Di Renzo in avanti Palumbo e Banegas appoggiano Dos Santos 4-2-3-1 per Ciampelli che inserisce Iabre e Bordo a centro campo mentre Trudo Ricci Barbetta agiscono alle spalle della prima punta Cruz Pereira Gara che entra subito nel vivo fin dalle prime battute subito botta e risposta al sedicesimo ospiti pericolosi con la conclusione al volo di Marini spacca blocca un minuto più tardi risponde Palumbo che spara però oltre la traversa la partita si sblocca al ventottesimo su una rispinta Cruz Pereira entra in contatto con Gallo non c'è fallo per il direttore di gara che fa proseguire il brasiliano a tu per tu con spacca lo spiazza e porta gli ospiti in vantaggio il Francavilla più attendista soffre ora la pressione della Iesina e si affida alle ripartenze di Palumbo e Banegas ma proprio sull'affondo dell'argentino al trentasettesimo trova il pari con Dos Santos che in diagonale trafigge Anconetani che si fa sorprendere sul proprio palo dopo l'uno a uno la gara si accende e al quarantesimo gli ospiti si riportano nuovamente in vantaggio con un'azione rocambolesca Ricci su punizione centra l'incrocio Yavre raccoglie la respinta la sfera impatta prima contro la traversa poi colpisce spacca ed entra in rete ma non è ancora finita perché la risposta del Francavilla è immediata Banegas se ne va sulla destra e serve al centro Palumbo che si coordina e piazza la girata vincente che vale il 2 a 2 nella ripresa le due squadre non accennano a calare i ritmi e giocano la gara a viso aperto e senza esclusione di colpi prima emozione dopo appena 20 secondi quando Palumbo vede Anconetani fuori dei pali e per poco non lo sorprende con una conclusione da centro campo ma l'occasione più ghiotta al diciannovesimo è per la Iesina che chiama al miracolo spacca sulla girata da due passi di Cruz Estremo Locale ancora protagonista al ventiquattresimo quando alza oltre la traversa la conclusione di bordo i giallorossi non ci stanno e rispondono al ventottesimo Palumbo mette in mezzo per la testa di Dos Santos che incredibilmente spedisce fuori da due passi il brasiliano poi va in gol al trentaduesimo ma la rete viene annullata per fuori gioco la gara è accesa fino alla fine al trentottesimo ancora un traversone di un ottimo Palumbo con Dos Santos che manca di un soffio all'impatto con la sfera ma la Iesina non molla e il Francavilla deve soffrire fino alla fine per portare a casa il punto in pieno recupero al quarantaseiesimo Villanova su punizione sfiora il 7 e due minuti più tardi con un rigore in movimento esalta i riflessi di spacca che salva letteralmente il risultato è l'ultima emozione di una gara entusiasmante che permette alla Iesina di centrare l'ottavo risultato utile consecutivo e al Francavilla di conservare la quinta piazza e continuare a tenere vivi i playoff Allora andiamo a chiudere la carrellata sulla serie D sul turno di ieri con la tripletta di Leonetti che tiene a galla la vastese 3 a 3 il commento di Papagni abbiamo recuperato quanto sembrava tutto finito titolo anche sul centro Leonetti non basta la vastese fallisce lo scatto salvezza il bomber segna tre volte la sconfitta a Castelfidardo per centrare l'obiettivo serve l'ultimo sforzo con l'Avezzano chiudiamo con la A2 di pallavolo i quarti di finale in gara 1 impavida notte da incubo a Livorno servirà l'impresa Ortona strapazzata 3 a 0 in casa dai Labronici lunedì in Toscana il secondo atto con la Seco che dovrà vincere per portare la serie alla bella di giovedì ci fermiamo con la rassegna stampa io vi ringrazio per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di giornata grazie a tutti